Bentornati in NatureCast, il podcast che dedica qualche minuto alla scoperta di mondi nuovi particolari, podcast dedicati alla divulgazione scientifica, a temi naturali e anche alla cultura ambientale. Mi trovate su Instagram, Facebook e Twitter, anche associate al mio sito internet dell'attività lavorativa www.calcagnoconsulenza.com. Oggi come le altre volte parliamo di argomenti un po' particolari, in questo caso oggi parleremo in maniera specifica di insetti, ma di un gruppo di insetti un po' particolare, le farfalle. Le farfalle in generale sono divise in due grandi gruppi, il primo farfalle diurne, sono le farfalle diurne il primo gruppo, mentre l'altro gruppo sono tutte quelle farfalle che sono notturne, quindi le cosiddette falene. Di falene ce ne sono veramente tantissime famiglie, oggi in particolare parleremo dei saturnidi. I saturnidi sono una famiglia di lepidotteri che comprendono oltre 1500 specie diffuse in tutto il mondo. La maggior parte degli adulti non supera i 15 cm di apertura alare, ma non sono escluse eccezioni. Per esempio l'Attacus Atlas, specie indostraliana, meglio nota come farfalla cobra, ha un'apertura alare che può toccare i 30 cm ed è certamente una delle farfalle notturne più grandi del mondo. Le dimensioni non sono l'unica particolarità di questa famiglia. Genericamente le falene, come definito prima, sono farfalle notturne, quindi in particolare hanno la loro attività di volo maggiormente nelle ore notturne. Però non è raro trovare delle farfalle notturne anche in volo giornaliero, quindi durante il dì, nelle ore di luce. Per esempio possiamo anche trovare farfalle che hanno il volo differenziato a seconda del sesso. Alcune falene, per esempio nei maschi, il volo è sia notturno che diurno, mentre le femmine magari della stessa specie hanno un volo prettamente notturno. Un'altra caratteristica importante delle falene è quella del mimetismo. Queste farfalle hanno la capacità di nascondersi e mimetizzarsi grazie ai loro colori e a volte anche e soprattutto per le cosiddette macchie oculari alari. Cosa sono? Sono delle macchie di colore che danno l'impressione che queste farfalle in realtà siano altri animali. Quindi magari ci sono farfalle che hanno macchie oculari che assomigliano a serpenti, macchie oculari che assomigliano a gufi. Facendo così distraggono il predatore da appunto attaccare la falena per essere predata, quindi è un modo per distogliere l'attenzione da loro stesse. Un'altra caratteristica, come dicevo prima, sono i colori. I colori sono mimetici nel caso appunto magari una falena sia in un ambiente prettamente boschivo. Ci sono tante falene che per esempio hanno colori che assomigliano al colore dell'albero su cui normalmente depongono le uova. Insomma non si può dire che i saturnidi non si distinguono per forme e colori differenti, ma una caratteristica comune a tutti i membri della famiglia dei saturnidi è l'impossibilità degli adulti di nutrirsi o per l'assenza vera e propria dell'apparato boccale oppure proprio per l'atrofia dello stesso apparato boccale. Nei lepidotteri, nelle farfalle diurne in generale invece questo apparato boccale, viene definito spirotromba. Le stranezze poi volute dall'evoluzione per i saturnidi non finiscono certo con gli adulti, di cui appunto abbiamo citato finora solamente alcuni casi. Per esempio gli stadi larvali di alcuni saturnidi mettono in mostra svariati colori, spesso aposemantici, cioè di avvertimento della loro velenosità ai predatori. Altri invece sono muniti di setole o spine collegate a ghiandole che secernono sostanze urticanti. Esiste addirittura un bruco di un saturnide sudamericano che può portare alla morte se viene toccato. Viene per questo appunto definito bruco assassino. In genere queste specie provviste di difese così efficaci sono diffuse in zone tropicali o subtropicali dove i saturnidi sono presenti in maggior varietà e quantità di specie. I bruchi dei saturnidi sono spesso polifagi, cioè mangiano diverse tipologie di piante. Come per tutti i lepidotteri anche le falene e i saturnidi ovviamente hanno bisogno di sviluppare il proprio bruco. Quindi mano a mano che la larva, il bruco si sviluppa, necessita come tutti gli altri insetti di cambiare pelle che per gli insetti viene definito cuticola. Ogni muta, cioè il cambio di cuticola a ogni stadio, segna il passaggio ad uno stadio successivo, detto anche età. I bruchi dei saturnidi normalmente non superano i cinque stadi. Alla maturità i bruchi si preparano un rifugio per la ninfosi, cioè il passaggio dal bruco alla farfalla vera e propria, che può essere costituito da un bozzolo come è tipico per le farfalle. Oppure una celletta pupale sotterranea, quindi depongono le uova nel sottosuolo e il bruco si sviluppa nel sottosuolo, anche a decine di centimetri di profondità. Per completare la metamorfosi, la crisalide sceglierà il momento più propizio. Numerose specie africane, per esempio, attendono la stagione delle piogge, altre in zone tropicali, sono presenti in volo praticamente tutto l'anno e si riproducono continuamente dando vita a oltre a cinque generazioni annuali. Nelle zone temperate invece spesso hanno specie monovoltine, cioè volano una volta all'anno in cui gli adulti si possono rinvenire in volo appunto solamente una volta all'anno. Addirittura alcuni saturni li possono rimandare allo sfarfallamento all'anno successivo nel caso in cui le condizioni climate risultino particolarmente sfavorevoli. Questa fase di quiescenza, spesso attraversata durante la fase pupale del ciclo vitale, è detta diapausa. Può coinvolgere in alcuni saturni anche le uova o in altri lepidotteri persino i bruchi e adulti. La diapausa è collegata alle stagioni più fredde dell'anno in cui le piante nutrici, cioè la pianta della quale questa falena specificatamente si nutre, perdono appunto le foglie di queste piante e quindi non sarebbe possibile ottenere una nuova generazione da parte delle falene. Chiaramente i saturnidi che non si nutrono una volta adulti, come ho detto prima tutti i saturnidi non possono nutrirsi, hanno come unico obiettivo la riproduzione nel minor tempo possibile e cioè facilitato dalle grandi antenne bipennate e ricche di sensilli dei maschi con il quale riescono a captare a diversi chilometri di distanza i feromoni rilasciati dalla femmina per mezzo di una specifica ghiandola che viene estroflessa durante la notte. L'accoppiamento ha durato variabile da pochi minuti a giorni interi e i maschi di alcune specie sono in grado in seguito di accoppiarsi nuovamente con un'altra femmina. Al termine della copula la femmina depone le sue uova la sera successiva in piccoli o grossi gruppi visibili anche a distanza, a seconda chiaramente della specie di cui stiamo parlando. Queste uova si schiuderanno in un periodo che varia da una settimana a due mesi senza contare alcune che entreranno in diapausa appunto per superare l'inverno. Uno dei problemi di conservazione parlando ora di questo per quanto riguarda sia le epidotteri diurni che le epidotteri notturni quindi le falene è il fatto che esistono migliaia di collezionisti. Qual è il danno e quindi il problema che questi collezionisti danno all'ambiente è il fatto di catturarle da vive, prenderle e metterle in una teca, farle riprodurre e poi rivenderle. Questo soprattutto alcuni collezionisti inglesi ma anche italiani lo fanno normalmente quindi causando un danno ambientale non di poco conto perché si rischia di compromettere un'intera specie soltanto per il gusto della collezione. Non a caso alcuni parchi hanno istituito delle zone apposta quindi dei SIC, dei siti di interesse comunitario ad hoc per alcune specie di farfalle molto rare soprattutto sulle Alpi. Ok anche per oggi abbiamo terminato queste spiegazioni per quanto riguarda oggi i Saturni e spero che come sempre questo podcast sia stato utile e abbia dato la possibilità di conoscere nuove facce della natura. Vi do appuntamento quindi alle prossime puntate. Un saluto da Luca.